Molte persone in centro storico ancora non riescono a rientrare in casa perché mancano gli allacci del gas. Una situazione comune a diversi cittadini che ancora non riescono a riassaporare il piacere del ritorno a casa. Cittadini e aziende si lamentano e l'assessore ai lavori pubblici Vito Colonna cerca come può di metterci una pezza. Per questo già da qualche giorno è stata modificata la procedura per gli allacci in centro. Fino a poco tempo fa infatti ogni ditta che doveva fare un allaccio e lavorare sulla sede stradale doveva chiedere autorizzazione al comune che a sua volta doveva chiedere un parere alla Gran Sasso Acqua che sta realizzando come è noto i sottoservizi in centro. Una procedura necessaria per evitare che all'arrivo della Gran Sasso Acqua ci si potesse trovare di fronte a impianti nuovi e tubi da spostare di nuovo con possibile richiesta di danni. Con questa modifica invece il comune potrà valutare caso per caso situazione per situazione. Fino a oggi prima di poter di autorizzare queste ditte fornitrici di servizio gas energia elettrica si chiedeva l'autorizzazione preventiva alla Gran Sasso Acqua per le parti che riguardavano anche l'innesto dei sottoservizi. Da oggi in poi noi autorizziamo a prescindere dei sottoservizi cercando di risolvere i problemi in un momento successivo quando si presenteranno perché è inutile bloccare l'ingresso di tanti cittadini nelle proprie abitazioni per una problematica che riguarda il comune dell'Aquila e la Gran Sasso Acqua. La situazione del centro storico è abbastanza complessa. Il primo lotto dei sottoservizi ha il 95 per cento di realizzazione mentre gli altri lotti sono interessati da ritardi vari soprattutto laddove ci sono rinvenimenti in cui è costretta ad intervenire la soprintendenza. Un fatto che inevitabilmente ha prodotto rallentamenti e che ha impedito il rientro di intere famiglie in centro. Nelle scorse settimane per accelerare le cose è stato nominato come ruppo all'ingegner Mario Di Gregorio che ha una grande esperienza. La faccenda è grave perché per esempio in via delle grazie i cittadini hanno protestato alle prese con gli allacci del telefono richiesti addirittura a luglio scorso e posticipati ora a fine aprile 2022 una situazione che ha molte ricadute pure sui negozi e le attività commerciali che si ritrovano senza linea e non potranno tornare e molti locali resteranno sfitti. Anche il CODA con Sabruzzo aveva preso una posizione in merito.